Secondo obiettivo che presentiamo, anche se questo è già arrivato gli scaffali alla vendita, però molto nuovo, il 30 macro ed. Focale più standard, siamo a 60 minuti di copertura, siamo nella struttura premium come classe di obiettivo, elevato in gradimento, siamo a 1.25 sul micro 4 terzi, così vado a 2.5 da reflex full frame, obiettivo che mette a fuoco a 14 minuti dalla lente anteriore. Costruito con le tecnologie che l'impus utilizza nella microscopia, che è un obiettivo con una lente anteriore molto piccola, posteriore a copertura del sensore, autofocus velocissimo, parlavamo prima con i luci del limitatore della messa a fuoco nel macro, ma con la nuova macchina, la limitazione del punto di messa a fuoco lo facciamo in macchina, in cui possiamo limitare il punto di messa a fuoco dalla fotocamera in più dall'obiettivo, e questo ci porta un ulteriore vantaggio di versatilità. Ligerissimo, 128 grammi, 14 mm di cellulare di distanza minima, 60 mm come copertura di focale, che è l'ottica statica, per cui per tanti potrebbe essere il sostitutivo dell'obiettivo normale come utilizzo, se fa molta autorità più avvicinata.